Cosa sta succedendo? Lo devo chiedere a voi come al solito, signore mio, perché io ci sto a capire poco. Dopo 11 giornate non c'è una certezza. Almeno io non la riesco a trovare, direte voi. È passato ancora poco tempo, sicuramente, però davvero, dopo 11 giornate è tutto aperto. Sotto tutti i punti di vista e sotto qualsiasi aspetto della classifica, a partire dalla corsa Scudetto. E ci abbiamo buttato dentro anche l'Atalanta dopo sta giornata qua. E per la Champions una squadra come la Lazio, che ti vince anche queste gare qua, che sono le peggiori, sono quelle che solitamente si steccano le partite. Quelle di stasera, Lazio-Calibre, la stecchi 9 volte su 10, perché la partita che si va a sommare a delle settimane di lavoro, dove poi c'è la Coppa, e la stecchi. Invece no. Ma non mi limiterei alla Champions, perché se andiamo in fondo e parliamo di salvezza, ci sono quante squadre, ragazzi? Quante squadre? Una, due, tre, quattro, cinque, sette. Ben sette squadre a un punto. Dopo 11 giornate non c'è una sola squadra che tu dici, no, ha più chance delle altre di scendere. Ecco, fino a poco tempo fa forse t'avrei detto Genoa e stasera il Genoa ti mette, no, ti mette, almeno mi cuce la bocca, ecco, per dirne un altro. Quindi, cosa sta succedendo? La risposta è positiva. Stanno succedendo cose piacevoli, perché quando poi c'è incertezza, sicuramente ne favorisce lo spettacolo, l'intrattenimento. Per cui, da questo punto di vista, sono molto contento. Adesso parliamone di Lazio-Cagliari, una partita anche questa, come tutte le partite, no, toste, anche combattute, poi quando ci sono episodi nel mezzo si parla soprattutto di quelli. Ma non mi voglio limitare solo a Lazio-Cagliari, perché, come ho detto prima, no, c'è da parlare anche di quelle squadre sotto, perché meritano, meritano assolutamente la nostra attenzione. Prendi l'Empoli, ragazzi, l'Empoli è una squadra che fa una fase difensiva perfetta, ma non solo, nelle transizioni, è eccelle in quello che fa. C'è da parlare dello stesso Genoa, che io, vi dico la verità, forse è l'unica tra le tante che aveva dato per spacciato, ma mai dare per spacciato Gilardino, che secondo me è un grandissimo, ma veramente top, top, top. Ne parliamo adesso, prima, come al solito, cibiamo l'algoritmo così, una volta che si sazia, riempie la pancia, no? Non ci affosse il video e magari ce lo lancia. Sono un pazzo, ma proprio da legare, ragazzi miei. E inoltre, se volete, commentate. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale e di attivare la campanella su YouTube, ma se mi seguite su Facebook, ed è giusto menzionare gli amici di Facebook, visto che questi video vanno su entrambe le piattaforme, se volete, ovviamente, lasciate, lasciate il seguo. E vi ringrazio per il supporto, perché davvero continuate a macinare, no? A macinare cosa? Iscritti, no? Siete sempre, siete sempre avvolgenti, un po' come questa Serie A, che dopo 11 giornate, devo dire la verità, mi garba, ecco, mi garba, mi garba parecchio. Lazio-Cagliari, come dicevo prima, sicuramente è una partita tosta, una partita tosta perché il Cagliari non te la addolcisce, non te la... su quelle squadre tignose, su quelle squadre che anche con l'inferiorità numerica non molla, no? Quindi è una squadra che ha sicuramente tanto, tanto, tanto cuore, ed è il motivo per cui questa è una squadra che riuscirà anche quest'anno, no? Non dico a salvarse, non posso dirlo, dopo 11 giornate, ma darà tutto, no? Riuscirà comunque a far felici i propri tifosi, perché quando una tifoseria vede l'impegno, secondo me, poi alla fine ha sempre poco da recriminare. Quando c'è l'impegno sei già perlomeno a metà dell'opera. La Lazio si era portata anche in avanti, cioè due gol entrambi un pochettino dove c'è da valutare. Il primo c'è sia il portiere che non la blocca a scuffette, sia la barriera, se non sbaglio, che mi sembra, eh, mi sembra che sia stata un po' aggigione già anche la barriera. Per quanto riguarda il gol del Cagliari è invece stato un tiro deviato. Però quello che mi piace della Lazio è che in queste partite è sempre presente, non gli sfugge la gara, non gli sfugge di mano, no? È nel controllo e poi ha le soluzioni per alzarlo a quel ritmo, no? Per trovarla quella giocata e nella ripresa ci sono state un paio di situazioni, no? La palla buttata in mezzo di Lazzari con il Tati e poi Vesino, molto clamorosa. Anche il rigore stesso, no? Che si riesce a procurare Pellegrini. È un forcing, no? È una Lazio in continuo crescendo. E poi una squadra che fino all'altro giorno, noi non abbiamo parlato di un giocatore tra i più importanti della squadra che è mancato per tanto tempo è De Zaccagni, che oggi va a battere il rigore e si vince la partita. Ma questa squadra riesce a fare a meno anche di alcune individualità. Ovviamente, quando ci sono è meglio, perché non prendiamoci in giro. Una cosa è giocare con Tavares e un'altra è non averlo. E se visto, però riesce a superire anche l'assenza di Tavares. Questo è il sinonimo di forza, assolutamente. Significa tanto, ragazzi miei. Significa tanto. Mi è piaciuta molto meno nella gestione del doppio uomo in superiorità numerica. Lì, forse, forse, dico forse, non mi posso permettere, ma forse è colpevole un po' nelle sostituzioni baroni, perché togliendo Gendussi, no? Magari non aggiungendo uno come Castrovilli che poteva dare... Magari, dico, dico, che poteva dare... E quindi contro un Cagliari così tosto è stata dura. Però la Lazio, nel momento in cui riesce a portare a casa anche queste partite, ragazzi, è una squadra che dà filo da torcere, assolutamente. Poi ci sono giocatori, c'è il Tanti Casteggiano, che a me, secondo me, quest'anno sta facendo un... Cioè, ha fatto un balzo qualitativo impressionante. Ha dei colpi, tira molto bene, anche quel tiro al volo, no? La impatta bene la palla. Aiuta i compagni, lo vedo sempre, no? A lavorare. Anche in una partita difficilissima dove c'è Mina che ti snerva dal primo minuto, no? Ti sta addosso. Usa anche mezzi, no? Fa sempre così, Mina, in qualsiasi partita. Sta sempre lì, no? A innervosirti. Non lo so, onestamente, se ci fosse la seconda munizione, semplicemente perché non l'hanno forse mai fatta rivedere. Quindi non posso dirvi. Però quello che abbiamo visto è che aveva la maglia stracciata. Tati, qualcosa sarà successo. Ma ditemi voi, perché io l'ho visto solo una volta, quell'episodio, non l'hanno fatto rivedere o sbaglio? O sbaglio? Così come anche sul rigore, no? Da me, mezza inquadratura, stop. Per cui io, onestamente, non mi sento di poter andare a fondo e dare sentenze e giudizia. Anche se poi, in quella circostanza, la regola è molto chiara. Se arriva prima Pellegrini e rigore. Mi sembra molto semplice. Sicuramente, quello che posso dire è questo sì. L'arbitro deve essere bravo a non perdere la gara, il controllo della gara, no? Ha dovuto ammonire tanto. A dopo, era già ammonito subito, gli dai l'altra ammonizione quando già hai buttato fuori Mina. Lì, devi un po', no? Cercare di navigare. E in questa Eroldi non è stato all'altezza. Però, ragazzi, partita vera. Anche il Cagliari stesso, da una partita del genere, secondo me, non esce con le ossa rotte, assolutamente no. Sicuramente esce senza punti, e questo non può essere un bene per la squadra di Ricola, però, quando hai questo carattere, io prima l'ho chiamato cuore, ma potremmo chiamare carattere, le squadre, solitamente quelle di bassa classifica, riescono a salvarsi, solitamente. Vediamo onestamente, vediamo quello che succede. Complimenti alla Lazio di Barone, eh. Complimenti alla Lazio di Barone, che ha tanto materiale, ma il materiale ce l'ha grazie a delle rotazioni, al tenere tutti coinvolti. Veramente un lavoro enorme, enorme, enorme. Ma come ho detto prima, voglio parlare anche un po' delle altre, perché mi sono messo, ho guardato, poi ero curioso anche di rivedere Balotelli in campo, ho giocato uno spezzone nel finale, dove è stato anche ammonito. Io credo, forse un po' troppo anche in quel caso, l'arbitro un po' troppo... Credo sia stato ammonito poi per le proteste, non per il fallo insieme. Quest'anno le proteste sono praticamente tolleranza zero. Però è un Balotelli che... Vediamo in questo genere. Senza ombra di dubbio può essere un innesto della panchina. Mi sento di dire che con questo Pinamonti, che poi trova il palo, si fa trovare al punto giusto, e con lo stesso Ekador, questo giovane, non è che non era l'attacco più forte, non è l'attacco ovviamente che tu potevi auspicare, qui auspicavi con Retevi Gudmundson, però basta parlare sempre di sto passato. E quindi devo dire che sostanzialmente... Sostanzialmente... Il loro lo hanno fatto. Poi il Genoa, grazie al Gila, è una squadra ben strutturata. Una squadra ben strutturata. Una squadra che... Che comunque le partite le... Non è che le... Il Genoa non mi ha dato mai l'idea di partire... Di partire battuta in qualsiasi... In qualsiasi sfida, no? E che poi non riesce, no? Alcuna volta non riesce ad avere quella qualità che hanno magari gli avversari. In questo senso spero, perché no? Deve avere magari un ballottelli più energico, più frizzante, con più minutaggio ovviamente a disposizione, che possa, no? Alcuna volta anche il colpo, la giocata, il colpo ti può fare la differenza. Sicuramente Gilardino lo metterà nelle condizioni di esprimersi. Perché quello che sto vedendo fare a questo Genoa è il Genoa che fino all'altro giorno doveva giocare con Torsby attaccanti, ragazzi. Con Torsby. E comunque qualcosa ti crea lo stesso. Per cui avrà... Avrà le sue chance. Mi dispiace per Parma. Mi dispiace per Parma perché poi, ecco, una cosa che volevo dire, e lì mi vado a collegare anche all'altra partita, no? Mi vado a collegare anche a... a Impoli, a Impoli Como. Ragazzi, dico purtroppo, perché dal mio punto di vista io vorrei vedere gol, gol, sempre gol, gol. Ma il primo aspetto da curare è la fase difensiva. Più del essere propositivo, del creare, e dico una cosa che mi spezzo il cuore solo a doverlo pronunciare, ma la prima cosa è la fase difensiva. guardate l'Empoli. Guardate l'Empoli che ha segnato soltanto, mi sembra, nove gol, ma ne ha subiti solo otto. Aspetta, questo lo devo... me ne verrà appuntato. Sì, è così. Ha subito... ha segnato solo otto gol, ma ha subito solo nove gol. È una squadra che sta a metà classifica, sostanzialmente. l'Empoli. E l'Empoli per me non è più attrezzata di... ma quasi quasi le cito tutte. Di sicuro Parma, ma lo stesso Como, ma Monza, per me non è più attrezzata. Però il lavoro di... è qualcosa di... finora è qualcosa... finora io lo metto quasi... forse sto esagerando, fermatemi, bloccatemi voi, io lo metto quasi al lavoro di Barone al Verona, eh. Perché io non... forse so io, perché sono ignorante io, non conoscendo alcuni giocatori, Pazzini, ehm... e... Colombo. Eh... magari so io, magari so io, però sostanzialmente... io... il centrocampista, la strutturata... questa è una squadra che gioca bene, è una squadra che concede davvero poco e... e ti ripara nelle transizioni amicidiali. Oggi partita fatta seria, ha avuto tante situazioni, ha... 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 abbattuto e... ha dimostrato superiorità in campo rispetto all'avversario, ha vinto... ha vinto la partita. Cosa gli vuoi dare? L'Eppole, l'Eppole davvero di quelle della parte destra della classifica è la squadra che sta stupendo di più senza sé, senza sé, senza maio. ovviamente no, noi ti ruba più l'occhio, ti rubava, ti rubava, ti rubava, ti ruba, no? Ti ruba più l'occhio magari il Parma, il Como stesso in alcune partite, ma l'Empole, la squadra allenata meglio, messa in campo meglio, no? e... cosa gli vuoi dire? Cosa... cosa gli vuoi dire? Ad oggi per quello che ha a disposizione, per quello che mostra in campo veramente, veramente top. Una cosa del Parma e mi ricollego che sto balzando da una parte all'altra, perdonatemi che so così, del Parma volevo dire che oggi un dato che pure me l'ho appuntato, il Parma non ha fatto un tiro in porta, cioè a tirare ma zero tiro in porta, tanta, tanta imprecisione, quindi se la tua fase difensiva non è impeccabile e davanti neanche lo sei, poi sottoporta anche se crei tanto questo, succede questo, succede che una squadra che ha fatto vedere una grandissima partita contro il Napoli, contro la Juventus, contro... tante, tante, no? Poi alla fine, vedi, oggi si trova a un punto dall'ultimo posto se vogliamo, si trova insieme alle altre a lottare per la salvezza, quindi c'è da, c'è da, c'è da, c'è da migliorare senza, senza, senza ma vediamo, vediamo quello che succede, senza ombra di dubbio ribadisco, tutte queste squadre ci stanno regalando una serie A molto, molto equilibrata e perché no, anche competitiva, mi piace, mi stuzzica, tanta roba, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, se volete commentate, likecate e iscrivetevi al canale, un grande abbraccio, bene, bene. Ciao a tutti. 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 Grazie.